C'è bisogno di soldi, di liquidità, così anche a Cremona, come nel resto d'Italia, le imprese nel settore del credito sono in crescita. Dai leasing alle intermediazioni immobiliari, dai fondi comuni agli investimenti, in provincia le imprese nel settore in 5 anni sono passate da 28 a 46, registrando un incremento del 24,3% nel giro di un anno e addirittura del 64,3% nel giro di 5 anni. Una media superiore a quella regionale ferma il 52% e a quella nazionale ferma invece il 41%. Lo rivela la speciale elaborazione della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, su dati registro delle imprese del secondo trimestre di quest'anno. Il settore del credito è in crescita e deve crescere da noi, poiché qui le imprese sono ad oggi 46 in tutto. In Lombardia meno di noi ne hanno soltanto Sondri Lodi, quindi vi sono ampi margini operativi. Interessante il numero degli addetti, 558 in tutto nel Cremonese.